Eccoci con Michele Cerrofolini, sono stati i primi giorni in grigio questi che sono passati, una prova importante quella di Alessandria che arriva dopo un periodo un po' sfortunato quindi c'è la necessità innanzitutto di ritrovare condizione e anche il postino, no? Sì, è una bella occasione che mi permette di rimettermi in gioco quindi darò il massimo e sono veramente contento di essere qua dopo dei periodi meno fortunati. Ecco, come stai? Sto molto bene, l'Importunio è stato recuperato al 100%, sono in forma quindi sono pronto per dare il mio contributo con la squadra. Come vai Alessandria? Perché è una piazza importante, una piazza che ha tanta voglia di fare ed era, penso, la miglior squadra per rimettermi in gioco. Cosa ti senti di garantire ai tifosi Alessandrini? Mi sento di garantire il massimo impegno, il sacrificio, il sudore in campo e sono sicuro che darò il massimo. Diego Fabbrini, primi momenti in grigio, tanta soddisfazione ovviamente per essere arrivato qui, le tue impressioni dopo i primi allenamenti? Impressioni positive, i miei allenamenti sono andati bene, sto trovando bene i compagni con la squadra, per ora sono scontato. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad arrivare qui ad Alessandria? Fondamentalmente io e la mia famiglia si erano deciso di cambiare, c'è stata questa occasione di ripensare il volo. Siamo contenti. Raccontati un po' come giocatore, tanta esperienza all'estero e adesso una maglia importante, pesante e qualche mese in cui si tratterà di fare davvero sul serio. Che cosa senti di poter garantire alla squadra e ai tifosi? Ti cerca di aiutare la squadra a fare il meglio possibile, a salvarti, a fare il mio meglio, questo posso garantire. Raccontati come giocatore, che tipo di ruolo, dove giochi meglio, dove ti senti più attuato? No, una mezza punta. Federico Mattiello, prime parole in grigio, prime dichiarazioni per i tifosi. Innanzitutto presentati come giocatore, perché le schede che ti riguardano dicono che sei un giocatore molto utile, destra, sinistra, un po' di difesa, forse anche un po' di centrocampo. Raccontaci un po' il Federico Mattiello giocatore. Ho sempre giocato come esterno di fascia e vedremo adesso dove vorrà utilizzarmi il Mr. Long. Io sono a disposizione e mi sento bene, quindi sono contento di essere qui. Ecco, ho calcio fatto bene in questi anni, immagino che Alessandria sia stata una scelta non casuale, perché anche qui c'è voglia di fare una seconda parte di stagione di livello, salvarci, quindi immagino che il tuo impegno sarà massimo. Sì, l'Alessandria è la prima squadra che mi ha cercato e mi ha voluto in questo mercato. Non potevo fare altro che accettare perché non vedevo l'ora di ritornare a essere calciatore dopo mesi complicati nella squadra da cui provengo. Ecco, ci hai detto che stai bene, le tue condizioni sono al top. Cosa ti senti di garantire per squadra e tifosi? Non posso che garantire il massimo dell'impegno come ho sempre fatto nella mia carriera calcistica. Ho già fatto qualche allenamento con la squadra, buone sensazioni. Vedremo come andranno questi mesi, ma sono fiducioso e felice. Grazie a tutti.